Perché la Santa Sede chiese che ci si occupasse di discriminazione contro i cristiani nell'area OSCE, che è l'Europa più Stati Uniti, Canada e Asia Centrale? Perché leggi, perché episodi di intolleranza nei confronti dei cristiani? Perché una certa intolleranza culturale diffusa si stavano manifestando in modo molto pesante anche nell'area OSCE, cioè Europa più Stati Uniti. Il missile, se vogliamo chiamarlo così, si muove in tre stadi. Si comincia con l'intolleranza, che è un fatto culturale, un clima, un'atmosfera, poi si passa alla discriminazione, cioè a leggi che in qualche modo discriminano contro chi fa parte di questa categoria e poi si arriva ai veri e propri crimini di odio e agli atti di violenza. Ecco, direi che in Europa siamo già nel secondo stadio, ma ci sono avvisaglie anche del terzo. In che senso siamo nel secondo stadio? Cioè ci sono delle leggi che discriminano i cristiani? Esistono una serie di leggi, anche di sentenze dei giudici, che discriminano i cristiani o mettono in pericolo la libertà religiosa in diverse aree. Faccio degli esempi, diversi paesi hanno delle leggi sull'omofobia, tutti in teoria siamo d'accordo con le leggi sull'omofobia. Se vogliono punire forme di bullismo contro giovani omosessuali o violenze, siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. Però poi ci accorgiamo che queste leggi sono applicate, è stato per esempio l'episodio del cardinale Sebastiano in Spagna, contro sacerdoti, religiosi, anche vescovi e cardinali, che presentano un insegnamento che poi è quello della Chiesa in materia per esempio di matrimonio fra persone dello stesso sesso, che non è quello della cultura dominante. In Francia è passata una legge contro gli ostacoli psicologici all'aborto e quindi si punisce la propaganda contro l'aborto rivolta a donne incitte. Sappiamo poi che ci sono paesi che hanno leggi contro i simboli religiosi ed è vero che è stato colpito il Burchidio e il Velo, ma sono state colpite anche le croci che qualcuno porta sugli vestiti. La Corte Europea dei diritti dell'uomo si è occupata molto spesso anche in Gran Bretagna con esiti molto schizofrenici di casi di licenziamento di funzionari pubblici, ma anche di impiegate private. C'è stato un caso che riguardava la BBC di signore che portavano una croce, ritenuto simbolo religioso che non si dovrebbe portare al pubblico. Non dico che in nome della libertà religiosa si debba scusare qualunque cosa, però dobbiamo considerare che la libertà religiosa è una libertà fondamentale, non deve sull'autobus sedersi all'ultimo posto, ma è una delle libertà fondamentali e come tale è riconosciuta dalle convenzioni internazionali, compresa la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La Chiesa per esempio, se io penso al documento conciliare che riguarda la libertà religiosa, diceva appunto che la libertà religiosa è qualcosa che va difeso indipendentemente dal fatto che riguarda i cristiani, perché è un valore che si potrebbe definire universale, cioè valido per la stessa struttura della convivenza civile. Io sono assolutamente d'accordo, occorre difendere la libertà religiosa di tutte le religioni, magari anche di quelle impopolari, per cui io credo che non si debba vietare di portare una croce ad una signora che la vuole portare, ma salvo le esigenze dell'ordine pubblico sul travisamento del volto, io sono contrario anche al divieto di velo e se una sulla spiaggia vuole metterci il cosiddetto burchini, che lo faccia per una ragione religiosa, che metta qualcosa di molto simile perché è un ebreo ortodosso, o che lo faccia perché ha paura del sole, io credo che lo Stato non debba interferire. Quindi è inteso che in Ticino mi è stato chiesto di parlare anche per questa mia esperienza delle discriminazioni contro i cristiani, ma noi siamo credibili solo se denunciamo le discriminazioni contro tutti e non solo quelle contro i cristiani.